Ciao a tutti da Virgo e siamo qui per commentare gli ultimi minuti della partita tra Red Bull Lipsia e intanto... Ufff il gol! Gollone del Lipsia? Cioè neanche inizio il video? Mamma mia, una botta dovrebbe essere di Adams? Bottala fuori all'ottantottesimo? Oh mamma mia, Adams, il terzino Beh, vediamo allora la cross dalla sinistra Adams, bella, bel movimento Ufff, deviazione! Allora, Sabitzer intanto per Adams Chi è che è stato? Gimenez? 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 Non ho visto il numero Non lo so onestamente Comunque Clamoroso Ottantottesimo Lipsia in vantaggio Contro l'Atletico Madrid Allora Fortunatamente Perché a me purtroppo, raga, l'Atletico Madrid mi sta qui Eh, a me è antipatico Cioè, che devo dire Eh Non mi piace come squadra Eh Non riesco a considerare Simeone un grande tecnico Eh Sicuramente molto concreto Eh Però Il ciolismo a me Non piace Comunque Tornando alla partita Un'Atletico Madrid Che forse ha preso un po' sotto gamba L'avversario Eh Io onestamente E non è la prima volta che lo fa il ciolo Però La scelta di lasciar fuori Morata E un Joe Felix Per Prediligere Un Marco Siorente Punta In supporto alla Scosta A Diego Costa, scusate Ma proprio no Cioè Non No Cioè Anche perché Io Rente neanche dice Un centrocampista offensivo Dice Vabbè Metti Carrasco No Non c'è problema Ma Marco Siorente Cioè Un centrocampista Un mediano Tu lo metti davanti Cioè Neanche i peggiori allenatori Che gli ultimi due minuti di partita Mettono davanti il centrale Per Per le sponde Come una volta Mi ricordo Fice Napoli In Coppa E segnò pure Cannavaro Da attaccante Come una volta Faceva la Juventus Con Ferrara Però no Secondo me È una cosa Che non sta In cielo e in terra Cioè Tu devi andare Devi giocare Contro l'Ipsia E ti presenti Coniorente Con Costa Con un Costa Che è morto Cioè Da due anni Che è morto Dico Costa Mai amato Neanche lui Assolutamente Mi è proprio Antipatico Come giocatore Mi è antipatico Come tipologia Di gioco Il 15 Boom Ok L'ha tirato il numero 15 Savic Ex Fiorentina Comunque Vi dicevo L'anno peggio sotto gamba Che non è Ammissibile questa cosa E io penso Che Se Trico Madrid Non dovesse passare Secondo me Simeone Potrebbe lasciare La panchina Potrebbe lasciare La panchina Perché Secondo me Il ciclo è finito Ma il ciclo è finito Però anche Di giocatori Quindi Bo Intanto Il Lips Che si va a difendere Perché va a togliere Sabitzer Mette Mucchiele Quindi non so se metto A difesa 5 Però Insomma Pagni questa partita Ripeto Il Trico Madrid L'ha preso un po' sotto gamba E' andato in vantaggio Il Lipsia Con un bel gol Di Olmo Bel cross Dalla destra E Olmo In anticipo Di testa La mette Sul secondo palo Bel gol Colt In preparato Oblak Anche perché Era in controtempo Poi pareggio Su rigore Di Joe Felix Joe Felix Che Appunto Trasforma il penalty Dopo un'ingenuità Clamorosa Di Closterman Perché tu Non puoi Entrere Vabbè che Poraccio Che poteva fare di più Cioè lì era Uno contro uno O lo lasci segnare O C'è Lo butti giù In speranza Che il portiere Lo pari Secondo me Era anche da rosso Perché veramente Di Joe Felix Era davanti Il portiere Quindi Secondo me Da rosso Ci era Da rosso Ci era Però Insomma Poi Diciamo che Alla fine L'altetico Non ha Credo tantissimo Di parate Del portiere Dell'Ipsia Non me ne ricordo Tante Intanto Mazzaro I portieri In Germania Escono in modo Clamoroso Cioè Veramente Veramente In modo Allucinante Teo Da distanza Di Carrasco Ottimo Carrasco Il primo Che ho messo in difficoltà L'Ipsia Perché Nel primo tempo Ha fatto un bel tiro Però purtroppo È andata fuori Neanche di tanto Ha incrociato male il tiro Diciamo così Tanto calcio d'angolo L'Atletico In mezzo In avanti Anche Oblak Attenzione Mancano due minuti E in avanti Anche Oblak Giustamente Che cacchio deve difendere L'Epsia Vediamo se Che stava concludendo a rete E sta attaccando Trico Madrid Sta attaccando Mancano 70 secondi Renan Lodi Dietro Per la I divisori centrali Orgimenez per Oblak Palla lunga La Carlona Veramente la Carlona Però giustamente Magari qui un Costa Sarebbe sempre più funzionale Costa non regge più 90 minuti Non li regge più Comunque veramente Ragazzi Io sono contento Se non passa Trico Madrid C'è veramente Sono tedeschi Quei dell'Ipsia Non li amo Particularmente Però E' bello Progetto l'Ipsia Intanto adesso Uno E' cascato A terra Angelinho Angelinho Che ha da terra L'arbitro Chiamo i soccorsi Ma Crampi Semplici crampi Che servono a Perder tempo Intanto Jimenez Angelinho Si è magicamente Alzato Appena ha visto L'arbitro Che chiamava i soccorsi Angelinho Si è alzato Vabbè Quanto odio Queste cose Quanto odio C'è contro L'etica sportiva Intanto Il potere dell'Ipsia Rinvia Palla ora Un attaccante Purtroppo L'Ipsia Abbastanza disturbata Quindi non riesco neanche capire Che cacchio sia Intanto Angelinho Angelinho Per Aidara Aidara Davanti E niente Io penso che la partita finisca qui L'arbitro ha dato 30 secondi in più Ma Conto che finisse così la partita Quindi Ciolo A casa Ciolo Ciao Ciolo Ciao Ciolo Forse L'ho tirata Ah intanto L'arbitro fischia un fallo Intanto Jimenez Ammonito Per proteste Sei minuti di recupero Mamma mia Per un fallo Appunto Di Jimenez Su Adams Penso Ubamecano Vincere il pallone Penso di finire qui Batterà Illipsia E l'arbitro fischia alla fine Ma ripeto Sono contento Per l'Atletico Madrid Sono contento Sono contento Pomo una squadra che mi sta sui maroni Come pochi Come il City Come il Paris Saint Germain Come l'Atletico Madrid E come il Barcellona Perché io Sono per Alla Madrid Se proprio dovessi scegliere Intanto qui Non fischia l'arbitro alla fine Risse in campo Attenzione Morata contro Aydara Un tutti contro tutti Però Mischia sedata Non so se l'arbitro Tira fuori un cartellino Paulsen Mamma Paulsen Mamma Paulsen Cioè Paulsen Paulsen a me non piace Mischia non piace Per quanto io ami gli scandinavi Ma Paulsen No Assolutamente no Buona prestazione di Campbell O Campbell Mi è piaciuto parecchio Un po' Meccano Leader Un po' Meccano leader Anche se veramente Rischiato Un faro da rigore Nel suo tempo Poi entrato per Oblak Oblak per deparare in via Se ottavo minuto Oh ragazzi È possibile che gli ultimi Post partita che faccio Mi escono gli otto minuti Di recupero Oddio Oddio Fallo Mamma mia Che uscite Che ha fatto Gulaxi Uh Rischiosissima Ma bella Raga Gulaxi Ex portiere del Liverpool Giovanini Liverpool Finita la partita Grande Lipsia Elimina il Ciolo Con lo Suevos Quindi questa volta Lo Suevos A casa Viva Lipsia Viva Lipsia Bravissimo Il tecnico Porta la squadra Dove l'ha portata Quindi In semifinale Ottima prestazione Tedeschi Atletico Madrid Spocchioso Molto spocchioso Anche se Gio Felix Giocatore Quindi se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Mi piace Campanellina E Continuate a seguire i miei video E supportare il canale Mi piace E condivisione Ciao gari Ciao